Può andare Ganza l'uno contro uno, con Pratolino, ancora Ganza, accanto a lui c'è Piccinocchi che riceve palla in questo momento, Piccinocchi si ferma, Piccinocchi! Piccinocchi! Ed è l'uomo che lo merita di più di questa gara, il gol Piccinocchi, sta giocando una partita splendida Piccinocchi in questa sfida, sta giocando veramente una partita splendida, qua si era un pochino addormentato, è riuscito però a eludere l'intervento di Pratolino e poi la grande conclusione con il destro a battere Pavloschi, preciso Piccinocchi, sta giocando una grande, grande, grande partita, davvero primo tempo splendido di Piccinocchi per l'intensità, per precisione, per anche testa che ci sta mettendo, sta ragionando molto quando è palla al piede, non è frenetico, prova sempre a trovare la soluzione giusta, ha trovato anche un gol importante.